C'è qualcuno? C'è qualcuno? Mamma! Appena sono entrata mi sono ricordata di quando da bambina vi sentivo fare l'amore. Mi dava la sicurezza che vi amavate e che saremmo stati sempre insieme. Cosa c'è? Cosa c'è? Calma. No, che non sto calma. Ma che succede? Non vorrei rovinare la tua immagine da vecchio, vero? Me ne guarderei bene. Ma qual è la mia immagine? Sei un mostro qualche volta. Cos'è? Sei diventato matto? Siediti. Ma no, non posso sedermi. Che succede qui? Che succede qui? Grazie a tutti.